Un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato dai poliziotti della squadra volanti di Vicenza per furto aggravato all'interno di un supermercato. L'uomo, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, era stato intercettato e bloccato dagli agenti, concludendo così il suo rocambolesco tentativo di fuga dopo una sortita in un esercizio commerciale. Qui aveva sottratto dagli scaffali bevande alcoliche e alimenti per un valore di circa 220 euro, tentando però di raggiungere l'uscita senza pagare alle casse. Il suo comportamento sospetto era però stato notato da alcuni dipendenti. Grazie all'intervento degli addetti alla sicurezza ad alcuni clienti, l'uomo veniva immobilizzato ed arrestato. Ora si trova in custodia all'interno del carcere San Pio X di Vicenza, in attesa dell'esito dell'udienza di convalida. A carico dell'uomo pendevano già numerosi precedenti penali e di polizia. Inoltre, nell'aprile del 2022, era stato raggiunto anche dal provvedimento del questore di divieto di accesso ai locali pubblici.